Quello che fa meno paura è l'assenza di punti di riferimento. Quando la pandemia è iniziata non c'erano protocolli di cura, non c'era una consapevolezza vera di quale dovesse essere la strada sanitaria da seguire di fronte a una pandemia che mancava dal nostro pianeta da quasi 100 anni. Oggi c'è una consapevolezza diversa, c'è una capacità del sistema sanitario in Sicilia, in Italia, in tutte le parti del mondo di confrontarsi con una infezione virale alla quale adesso abbiamo una risposta anche farmacologica con una pillola antivirale. Tutto questo porterà l'infezione a diventare sempre più endemica perché avremo la possibilità del vaccino per fare prevenzione e quindi evitare che in caso di infezione ci possa essere la necessità di cure molto complesse, avremo un antivirale, quindi una cura farmacologica che ci consentirà di evitare anche in questo caso che ci siano molti lutti. Dobbiamo tenere come punto di riferimento anche questo. Nessuno nel mondo con responsabilità istituzionali era stato formato alla gestione di una grande crisi sanitaria internazionale. Noi oggi guardiamo tutto con una lente un po' lontana che è la lente della ordinarietà, ci sembra tutto semplice, ci sembra tutto facile. Quasi consolidato. Quasi consolidato. Ma quando la pandemia è iniziata e le immagini delle televisioni trasmettevano il grido di dolore che veniva da una parte del paese, il Nord Italia, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Veneto, che storicamente erano considerate forti dal punto di vista del sistema sanitario. E allora gli editorialisti si orientavano verso un'idea attenzione, quando arriverà al sud, altro che quello che stiamo vedendo oggi, non è stato così il merito, ovviamente non è stato di chi aveva la responsabilità protempore dell'istituzione sanitaria, ma il merito è legato alle competenze, alla capacità, alla forza di volontà, al senso del dovere che tantissimi operatori della sanità pubblica e privata hanno messo in campo, medici, infermieri, che si sono confrontati con qualcosa, ecco questo lo ricordo, che si chiama timore, paura. C'è chi è andato incontro vestendosi con le tute integrali per la prima volta, a un qualcosa che era totalmente sconosciuto. Quello è stato un momento difficile, così come il momento difficile, forse il più difficile di tutti, è stato legato alla difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi di protezione, quando poi noi anche grazie alla collaborazione con UPMC siamo andati a fare una nostra commessa autonoma in Cina e in altre parti del mondo, beh, guardate che in quei giorni io ricevevo messaggi di operatori sanitari veramente in difficoltà, impauriti, perché tu puoi avere la capacità e la competenza di mettere in campo la tua professione, ma se vai in guerra hai bisogno delle munizioni, le armi, le frecce, in quel caso ci si sentiva disarmati.